Il Parlamento europeo ha approvato la riforma che regola i compensi dei banchieri. I beneficiari di bonus non potranno ottenere premi superiori al proprio salario. Il test adottato prevede una deroga nei limiti del doppio dello stipendio percepito, ma solo su approvazione di una maggioranza degli azionisti. La misura sarà effettiva solo a partire dal 2015.